A Palazzo Margherita, nell'aula del Consiglio Comunale, oggi primo comitato direttivo a seguito dell'elezione del nuovo presidente di Anciabruzzo, il sindaco del capoluogo di regione, Pierluigi Biondi. Presente tutto il direttivo, composto da vari sindaci, occasione per assegnare deleghe e competenze. Il presidente Pierluigi Biondi ha ribadito che sarà il rappresentante di tutti, senza casacche di partiti politici, e ha spiegato che ci sono diverse questioni fondamentali all'orizzonte, come ad esempio la legge di bilancio. C'è una fase complessa all'orizzonte, c'è una legge di bilancio su cui è stato aperto il confronto, ci sono dei sacrifici che sono chiesti agli enti locali, ma noi dobbiamo lavorare affinché questi vengano mitigati il più possibile, perché noi siamo il primo fronte rispetto alle esigenze dei cittadini e le tutele delle nostre comunità e faremo il nostro lavoro, come sempre, senza casacche di partito, ma tenendo ben presente l'obiettivo che abbiamo davanti. Sindaco, c'è proprio qualche priorità come prima cosa, insomma, oltre a questo che si delinea l'orizzonte con la legge di bilancio, alla quale le piacerebbe lavorare in particolar modo? Ci sono degli argomenti centrali, penso per esempio all'individuazione delle aree idonee per l'installazione, per le fonti rinnovabili, che sicuramente è un elemento che potrebbe trasformare il paesaggio se non seguito opportunamente. C'è il tema sicuramente della messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, insomma, gli argomenti sul tavolo sono molteplici. C'è l'avvio di tutte le attività legate agli istanziamenti dell'FSC e quindi la garanzia di liquidità agli enti locali che già stanno soffrendo per i pagamenti delle rate dei sale, degli stati di avanzamento dei lavori del PNRR. Insomma, le problematiche di un comune sono molto molto complesse, in particolar modo avremo un'attenzione specifica nei confronti soprattutto dei piccoli comuni, che sono quelli che soffrono di più sia in termini di risorse umane, sia in termini di risorse, di cassa e per gli investimenti.